eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace arriviamo a 400 per il prossimo video informativo in questi giorni mi state segnalando in tantissimi nuovi problemi di connettività principalmente su xbox ma anche su ps4 allo stato attuale i problemi più importanti come riportato dalla sledgehammer games sono più frequenti sulla versione xbox one e hanno riportato proprio poche ore fa nella notte un post su reddit.com dove fanno il punto della situazione dichiarano questo ciao a tutti abbiamo preso in considerazione i vostri feedback e abbiamo deciso di avviare una discussione in cui vi aggiorneremo periodicamente sullo stato dei problemi e dove praticamente potrete lasciare i vostri feedback e segnalare problemi relativi a problemi di connettività che molti hanno riscontrato su xbox one sappiamo anche che alcuni di voi vedono ancora problemi di connettività anche su ps4 quindi sentitevi liberi di commentare in questo post per i vari problemi vorremmo ringraziare tutti coloro che ci stanno mandando le varie informazioni che ci stanno aiutando ad indagare meglio sul problema allo stato attuale l'aggiornamento che hanno fatto nella notte è questo qui praticamente hanno dichiarato che allo stato attuale è migliorata la situazione su xbox one perché a quanto pare i dati mostrano un calo significativo delle disconnessioni su xbox one a partire dalla mezzanotte di ieri e quindi sembrerebbe che molti problemi su xbox one siano allo stato attuale migliorati comunque se notate ancora problemi e disconnessioni utilizzate appunto questa discussione che trovate su reddit.com per segnalare appunto la vostra problematica dovrete mettere appunto il nickname e piattaforma regione e paese tipo di nat e tipo di connessione data e ora in cui si è verificato il problema in questo modo sarà molto più facile per la sledgehammer games cercare di individuare il problema e portarlo ad una soluzione quindi così riusciranno a capire se è capitato a metà partita dopo la partita pre partita e via dicendo e ringrazio ovviamente la community per la pazienza quindi allo stato attuale su ps4 la situazione dovrebbe essere migliorata e su xbox one dai dati risultanti alla software house le disconnessioni sono letteralmente diminuite qui sotto appunto nei commenti fatemi sapere la vostra esperienza seconda notizia del giorno è arrivata a sorpresa ieri una patch per call of duty in infinite warfare che ha portato a correzioni di piccola entità perché sono correzioni alle performance del gioco e fixe di back end prima di avviarci verso l'ultima notizia del video volevo segnalarvi perché mi avete mandato in tanti questa segnalazione una nuova offerta su amazon su call of duty in modern warfare master ed su ps4 che viene scontato addirittura del 50 per cento quindi allo stato attuale è disponibile a soltanto 19 dollari e 88 quindi è calato veramente tantissimo call of duty modern warfare master che sarebbe appunto la versione rimasterizzata di call of duty 4 titolo del lontano 2007 che è arrivato in versione remaster dell'anno scorso insieme a call of duty infinite warfare ed è finalmente acquistabile da alcuni mesi anche in versione standalone concludiamo il video informativo con una notizia che arriva direttamente da michael con re il co founder della sledgehammer games che annuncia appunto come avevo svelato alcuni giorni fa l'arrivo di gioco delle armi quindi gun game per questo venerdì 15 di dicembre stiamo vedendo il logo e quindi l'icona che troveremo appunto sulla modalità in questione e vi ricordo che gun game darà la possibilità di acquisire doppi punti esperienza qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate lasciate un bel mi piace arriviamo a 400 per il prossimo video informativo e noi ci vediamo con tanti nuovi video